Ehi ciao a tutti ragazzi e ben ritornati all'appuntamento di domenica di C'è posta per Pepo C'è posta, c'è posta per Pepo Come sempre ho preso 5 vostre lettere e direi di andarle a scartare subito Allora la prima ce la manda Kadir che ce la manda da Mendrisi, Svizzera, porca troia Me la manda dalla Svizzera, la devo aprire subito, cioè quindi mi è scritto in svizzerese No, vabbè non credo ma siete svizzerese, se no non capisco niente Vediamo che cosa ci scrive Kadir, scusami tantissimo se sbaglio la pronuncia Kadir ci manda una lettera, molto breve aggiungerei visto che mi scrive soltanto Ciao Pepo, no aspetta rifaccio, salve Pepo, faccina, voglio essere finisciuto su Pino, fine Grazie mille Kadir, non lo so, non lo so, non lo so, vedremo, vedremo Le richieste incredibili che mi arrivano davvero Grazie Kadir, è stato breve ma intenso Quindi passiamo subito alla seconda lettera di oggi Che ce la manda il signor Mattia, o forse Sabrina, non ho ben capito, ci sono due nomi scritti sopra Da Silvi Marina, ovvero te, te che sarebbe Termoli, te, Teramo, te, 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 Tombolaci, che cos'è te, non lo so Comunque da Silvi Marina, allora vediamo subito che cosa c'è dentro Una bella letterina, bella, 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 bella Pepo ti scrivo questa lettera per dirti che sei un mito, grazie mille Quando sono triste tu mi dai un sorriso con le tue splendide battute E visto? Per tutti quelli che dicono le mie battute sono brutte, sono belle Ecco, non sai quanto ti vorrei conoscere per darti un abbraccio infinito Sei lo youtuber più bravo che conosco e per me non ti meriti gli iscritti che hai tu Ma bensì 21 milioni signori, niente po' po' di meno che Milione di iscritti, ci arriverai, like per te Poi ci sono tipo le scritte, tipo dei giochi che ho portato sul canale Un saluto da Mattia e poi l'altra perché sono due Mi fa delle domande, allora per Pepo Allora mi chiede domande Puoi fare due episodi, non episodi, della Road to Diamonds al giorno E Mattia sinceramente parlando credimi mi viene difficilissimo Perché già portarne uno solo con tutte le ore di lavoro che ci sono dietro Già mi viene difficile quello Su Clash puoi abbassare i trofei per entrare nel tuo clan? Vedremo, vedremo, tu tieniti aggiornato Come 99esimo episodio della Road Siamo già al 101 Puoi fare una grande piscina con le canne intorno Pepo, De Janeiro, yeee Non è senso fare la piscina, abbiamo già il lago in vaso Come si chiama la tua ragazza? Puoi fare dei video con lei? Allora la mia ragazza si chiama Roberta E vedremo, vedremo, magari un giorno chi lo sa Qualche video insieme a lei lo vedrete sul canale Non ho capito la stessa domanda Di a tutti che la tua ragazza is good Che vuol dire di a tutti, sì, di a tutti che la tua ragazza is good Sì la mia ragazza è bellissima Cioè a me piace da morire e a me solo deve piacere Quindi il discorso è quello Cioè quindi is good for me forever and ever Cioè caccapupu, no? Salutami e dammi il tuo numero Ciao Mattia E Mattia capiscimi Il numero non te lo do per cattiveria Ma per correttezza Se lo do a te lo dovrei dare a tantissimi che me lo chiedono C'è la luce di Gesù Ragazzi oggi c'è davvero una bella giornata Cioè guardate se apro la finestra Vengo irradiato Cioè vedete Cioè incredibile Cioè guarda c'è un sole incredibile ragazzi E tutta questa luce la webcam La fa diventare tipo la luce di Dio Quindi è normale Comunque tanto sole è positivo Perché tanto sole vuol dire tanta luce Vuol dire pc acceso Quindi grazie Mattia per questa bellissima lettera Ti mando un abbraccione E direi di passare alla prossima La terza lettera di oggi Ci arriva da Giuseppe Uh da Alcamo Alcamo sta qua in Sicilia Ora mi sembra che Alcamo Non vorrei non vorrei fare una gaff Ma credo sia provincia di Palermo Credo Alcamo Comunque è vicino Palermo Allora no vabbè dai ragazzino Mi ha scritto la lettera Guardate è il fonte di Minecraft Ciao Pepo sono Giuseppe Ho 12 anni e abito ad Alcamo Provincia di Trapani Ecco infatti ho fatto una gaffa Ho iniziato a seguirti dal 2 agosto 2014 E da quel momento mi hai fatto sempre ridere Ad esempio come tutti sanno Accucchiare Ligno è molto famosa Ti lascio il mio numero di telefono E il mio canale youtube Allora il canale youtube è TheLegendGamerHD PS non fare vedere il mio numero di telefono Shh tranquillo Non lo faccio vedere È una cosa mia e tua E dietro PS domanda Come hai fatto la tua faccia in modo virtuale Che è nella copertina del canale Dunque la copertina me l'ha realizzata Un ragazzo Non l'ho fatta io E semplicemente ha riprodotto In modo digitale il mio viso Tipo l'ha ricalcato su photoshop E l'ha disegnato in modo digitale Semplicemente Dopodiché la quarta letterina di oggi Ce la manda Nessuno perché non c'è scritto Quindi direi di aprirla E quest'oggi Uh attenzione Attenzione Lettera scritta a mano Eh madonna E invece no Perché mi ha scritto Mi ha scritto qua in alto Che non si vede per via della luce Scritta al computer Ok scusami Scusami È un font molto simile alla scrittura a mano Caro Babbo Pepo Quest'anno sono stato bravo e buono Ho commentato Ho messo mi piace E mi sono anche iscritto al canale Eeeh Grida di sottofondo più applauso Ahahah Questo lo metto io Ciò che desidero da te Babbo Pepozzo È Un peluche Bambola confiabile Come una bambola confiabile Da dare al mio amico Pepo Come? Cioè io Io mi regalo Che triste Cioè Ahahah A parte gli scherzi Ti seguo da molto Però sono iscritto al tuo canale Da poco Sono like channel Shhh Non dilla a nessuno E ora ti elencherò I tuoi tre pregi Che fanno di te Una persona speciale In primis Sei simpatico Grazie mille In secondis Non sei antipatico Ahahah Già ti adoro Ahahah In quartis Sei ricco Di simpatia Ok Quindi i miei tre pregi Vanno a Richiudersi In uno Sono simpatico PS Il terzis Non c'è Da te lo lascio intendere Ma te lo lascio intendere Ok Penso che sia simpatico Ecco PPS Solo adesso mi accorgo Di non essermi presentato Ecco Bravi Sono Andrea E vengo da Adria Ro Ovvero in provincia Di Rovigo In Veneto Se siete precisi Ragazzi Mi fa tanto piacere P-P-PS Mi devi Un euro e 95 Per la carta La busta E franco Continua così Con affetto D'Andrea Tavina Di a te Di a te Oddio No ragazzi Veramente Voi siete Siete fantastici Mi fate morire Veramente Grazie a tutti quanti Allora Detto ciò Si passa All'ultima lettera Di oggi Che ce la spedisce Francesco Da Valdagno Ovvero V V che cos'è Vinaville Non lo so Ci scrive Francesco Signor Pe Signor Peppo Con due P Madonna E Peppo P-E-P-O No P-E-P-P-P-P-O Il favone Non si può leggere Peppo E' orribile Signor Peppo La doppia P Fastidiosissima Mi chiamo Francesco Ho 11 anni E a dicembre Ne compio 12 Uh Quindi O li hai già fatti O li sei per fare In ogni caso Auguri da parte mia Anche se il ritardo Barra in anticipo Ti faccio i miei più sinceri auguri Abito a Valdagno In provincia di Vicenza Ecco vi è Vicenza Ragazzi è bello Mi piace Specificatelo di dove siete Così magari scopriamo Tutti insieme città nuove Posti nuovi Ho una sorella di 15 anni Sono un tuo grande ammiratore E ti seguo da più di un anno Mi piacciono molto i suoi video E mi tolgono sempre un sorriso Vorrei fare qualche domanda Attenzione Francesco ci interroga Quando farai il Pepo de Janeiro? Carissimo Il Pepo de Janeiro L'ho realizzato già Nel centesimo episodio Della Road to Diamond Quindi se te lo sei perso Vallo a vedere Quando tornerà a casa di Luke? Per chi non lo sapesse Quest'estate sono stato A casa di Luke E spero di tornarci Assolutamente il più presto Perché comunque lo voglio abbracciare Mi sono trovato benissimo E poi ho proprio voglia Di riabbracciarlo Spero di poterci ritornare Quando sono passati Tutti questi problemi Che ci abbiamo Quando la situazione È un pochettino Più calma e rilassata Assolutamente Credo che lo andrò a trovare Perché comunque Mi sono trovato davvero bene Poi Può fare più spesso Dei vlog Diciamo che i vlog Sono un pochettino più Quando c'ho qualcosa da dire Comunque vedremo Magari qualche vlog in più Lo farò Poi mi scrive Joe Chip Ah no scusi Joe Pepo Stavolta l'ha scritto Pepo Giusto Con un episodio Ah perché prima Lo fai signor Pepo Lo fai vedere Perché sai che mi fai rispetti Le chiedo Cortesemente Di scrivermi su Prozap Non ci preoccupi Non sono uno dell'Isis Per come ho già detto prima Per correttezza Non lo do a uno Perché se no Lo dovrei dare a tutti E in ogni caso Se mi volete scrivere Se mi volete contattare Potete benissimo farlo Su Facebook O sotto i commenti Perché tanto sappiate Che li leggo Sempre Quindi potete stare Tranquillissimi Che anche se non vi rispondo Sotto nei commenti Vi ho letto Al 101% Potete stare tranquillissimi Quindi ragazzi Le 5 letterine di oggi Le abbiamo lette E vi ricordo Che se volete spedirmi Qualsiasi cosa Vi passa per la testa Troverete il link Alla quale spedire il tutto Qui sotto In descrizione Quindi ragazzi Se il video vi è piaciuto Io vi invito Come sempre A lasciare un bel pollicione In su E noi ci rivedremo Col prossimo episodio Di C'è posta per Pepo Domenica prossima Alle ore 13 Detto questo Vi mando un abbraccione Vi limono tutti E vi ringrazio sempre Per queste bellissime lettere Che mi mandate Vi voglio bene Ad un prossimo video Ciao 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 Ciao